Dipende tutto da te, dal tempo, dalla velocità, dalla tua velocità. Papà oggi fa un nuovo lavoro. A 5 anni? Vado in giro con la bicicletta a portare da mangiare alla gente. Dott. Rossini, abbia pazienza, mi scusi. Vabbè, ciao eh. Naturalmente se perdi uno di questi pezzi bisogna rimborsarli, quindi noi ti chiediamo una cauzione a garanzia che poi ti togliamo dal primo stipendio. Ma sono 60 euro, li rifai subito.